e ti saluto con la pace del signore buongiorno e buon martedì 9 di luglio 2024 dio ti benedica e che dio possa benedire l'intera tua famiglia il tuo lavoro e il tuo operato puoi dire amen e dillo sì sì conviene amen significa e così sia gloria al nome di gesù anche questa mattina siamo pronti per poter ascoltare la parola di dio che viene rivolta ai nostri cuori in questi termini per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di dio così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti ciò è scritto nella lettera agli ebrei al capitolo 11 il versetto 3 e il titolo di questa meditazione biblica è una domanda è il caso i cristiani vedono in tutte le cose la mano di dio ma spesso sentono dire superficialmente è il caso molti nostri contemporanei in effetti pensano che il mondo sia sorto per caso attraverso mutazioni ed evoluzioni senza che nessuna volontà creatrice ne sia stata l'artefice non vi vedono l'azione del dio creatore così come egli ce l'ha fatta conoscere non possiamo negare che esista una qualche forma di evoluzione o adattamento nell'ambito della specie ma queste teorie cosiddette scientifiche non spiegano il passaggio dal niente al qualche cosa nella straordinaria complessità della bellezza dell'universo e il mistero della vita sostenere che è il caso ad aver costruito nel corso di milioni di anni la realtà che ci circonda è come credere che lanciando in aria migliaia di lettere queste possono ricadere a terra e formare un dizionario se ci capita di avere un incontro imprevisto o un incidente dal quale siamo scampati per un soffio noi che crediamo al signore vediamo un segno del favore e della protezione di dio e della sua mano che guida ogni cosa neppure il caso sfugge a dio e per mezzo di una freccia tirata a caso che il re acab trovò la morte preannunciata dal profeta non invochiamo il caso per restare sordi alla chiamata di dio dio non si impone ma attira la nostra attenzione qualche volta con la forza di un'onda potente che si infrange sulle rocce talvolta con un virus infinitamente piccolo ma che sconvolge il mondo intero la sua parola ricevuta con dolcezza ha il potere di salvare le nostre anime la sua parola ha il potere di salvare le nostre anime desideri ricevere questa salvezza desideri ricevere gesù cristo nel tuo cuore desideri iniziare una nuova vita con gesù desideri che dio cammini con te in te e per te durante tutti questi giorni della vita che ti restano allora non serve fare chissà cosa invoca il nome del signore ravvediti dai tuoi peccati chiedi perdona a gesù cristo direttamente parla con lui digli di entrare nel tuo cuore di cambiare la tua vita digli che vuoi ricevere questa salvezza vuoi camminare con lui digli chiaramente gesù ho bisogno di te ho bisogno del tuo aiuto ho bisogno della tua guida ho bisogno della tua presenza perché mi sento solo ho bisogno del tuo amore perché non mi sento amato da nessuno ho bisogno che tu mi capisca perché nessuno mi capisce signore ho bisogno di te diglielo parla signori in questi modi in questi termini non ci sono segreti o strategie particolari invoca il nome del signore e non c'è altro e poi inizia un cammino col signore dice ma in che modo inizia a leggere la bibbia dal vangelo di matteo ogni giorno cerca la sua voce perché quando tu leggerai quel libro lui parlerà al tuo cuore nel frattempo tu parlerai con lui gli chiederai aiuto bisogno sostegno lo loderai lo amerai lui ti amerà lui ti parlerà ecco e inizia così vedrai che la manifestazione della gloria di dio sarà visibile nella tua vita e riceverai questa salvezza che non è per mezzo di meriti o d'opere ma è per grazia amen dio ti benedica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti